Atalanta-Valenzia del 19 febbraio scorso torna nuovamente al centro delle polemiche. Calcio, politica e coronavirus sullo sfondo in Slovenia tra il capo del governo locale, Janez Jansa, e il presidente del UEFA, lo sloveno Aleksandr Šeferin. Il numero uno del calcio europeo, che secondo la stampa locale avrebbe intenzione di entrare in politica in futuro, ha criticato alcune misure economiche adottate dal governo di Janez durante l'emergenza per il Covid-19. Il premier di Ljubljana ha replicato accusando Šeferin di non aver fermato prima le Coppe europee, facendo riferimento soprattutto alla gara di Champions League tra Atalanta e Valencia, giocata a Milano il 19 febbraio e ritenuta da alcuni all'origine di un contagio di massa in Lombardia. È stata una decisione irresponsabile e criminale, un'autentica bomba biologica, ha detto Jansa. Due milioni di euro per tre stagioni. Con questa offerta, il DS della Roma Gianluca Petrachi spera di superare la concorrenza della Fiorentina e portare nella capitale Jack Bonaventura. Il Milan ha deciso di non rinnovare il contratto del cittocampista, che quindi si libererà a parametro zero. Bonaventura non è l'unico giocatore a fine contratto in orbita giallorossa. Piace anche Pedro del Chelsea, su cui il tecnico Fonseca è pronto a puntare, e Gozke del Borussia Dortmund. Edinson Cavani non rinnoverà il contratto con il Paris Saint-Germain e il suo futuro non è ancora chiaro. Da tempo le voci parlano di un accordo con l'Atletico Madrid, ma ora sembra che l'attaccante sia destinato ad andare in Uruguay a giocare con il Peñarol. A sostenerlo è il capitano del club di Montevideo, Cristian Rodriguez, che durante un'intervista per il programma Locos por el Football, del Sole FM, ha dichiarato «Ho l'autorizzazione di Eddie per dirlo, chiamatelo e chiedeteglielo. Sta per venire al Peñarol, e non posso dire altro». Le parole del centrocampista 35enne sollevano nuovi dubbi sulla prossima destinazione di Cavani, che tra le sue opzioni potrebbe avere anche la Serie A. Il Napoli, infatti, club in cui El Matador ha giocato dal 2010 al 2013, si è mostrato interessato. Il Barcellona ha le idee chiare. L'obiettivo Lautaro Martinez non sarà mollato. I Blaugrana proveranno in tutti i modi a convincere l'Inter ad abbassare le sue richieste. Sull'argentino pesa una clausola da 111 milioni di euro, cifra che i catalani non vogliono spendere perché parte di quei soldi può essere investita per l'acquisto di altri giocatori. Il Barça, a questo punto, ha messo sul piatto due contropartite tecniche, Junior Firpo e Nelson Semedo, che però Conte, secondo il mondo deportivo, avrebbe rifiutato perché non funzionale al progetto Nerazzurro. Dalla Spagna arrivano anche alcune possibili indicazioni sull'ingaggio offerto all'Autaro Martinez, 10 milioni a stagione, una cifra di molto superiore ai 6 milioni inizialmente proposti dal Barcellona. Barcellona